Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a prendere le tre armi mitiche che sono presenti in questa nuova stagione 2 del terzo capitolo di Fortnite e che sono tutte anche abbastanza vicine, ora io sono appunto poche ore che sto giocando quindi non è che abbia trovato altre armi mitiche e le uniche che ho visto stanno alla fortezza e tutte e due alla caverna di comando ci ho fatto già un video dove come trovare le armi mitiche, è uscito ieri, tra l'altro abbiamo fatto anche già la prima vittoria reale è uscito il video questa mattina, oggi in una sola partita devo andare a prendere le armi mitiche di caverna di comando che ce ne sono due appunto e alla fortezza che ce l'ha la Sloan, tutte in un'unica partita senza l'ausilio della tenda tra l'altro ragazzi vi ricordo che per quanto riguarda la tenda dobbiamo ancora controllare se c'è il mio MK7 mitico lo spararagnatele di Spider-Man e la mitraglietta di Gunnar, quindi io vi ricordo che dobbiamo fare ancora quel video magari ve lo faccio uscire domani, nel dubbio andatevi comunque a recuperare tutti i video che abbiamo già fatto su questa nuova stagione vediamo un po' se riusciamo ad andarci a prendere tutte queste armi mitiche in una sola partita ribadisco senza l'aiuto della tenda vi ricordo ovviamente anche il codice creatore GGYPSI non ti tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite fondamentale per supportarmi, mi raccomando ragazzuoli controllate sempre che su supporto del creatore ci sia scritto GGYPSI non ti tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scato e dovete reinserirlo iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto, lasciate un bel mi piace, ora vi auguro una buona visione allora io già avevo un brutto rapporto con il vampa fucile prima che gli mettessero sto mirino no? adesso che gli hanno messo il mirino me ce trovo ancora peggio, cioè è ancora peggio la situazione ragazzi però vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, vado qui alla fortezza andiamo quindi dalla dottoressa Sloan, cerchiamo di prendere il vampa mitico e poi cerchiamo anche di andare a prendere le altre armi mitiche sperando di trovarle dato che sicuramente un sacco di gente andrà alla grotta e dintorni diciamo così, ecco un bel vampa, non mitico ma un bel vampa bianco l'abbiamo trovato eh ci mettiamo anche un po' di shield quindi siamo belli tranquilli qualcuno qua regà sta atterrando quindi stiamo attenti e cerchiamo di fare un lavoro pulito regà perché la Sloan è tosta da buttar giù è parecchio parecchio tosta da buttar giù allora facciamo fuori prima di tutto lo scagnozzo regà perché quasi sull'ente ci dà ma? ma? aspettate un attimo no, 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 c'è pure... e vabbè ma che sta succedendo? il giro giro tondo sta maffa... ah ho finito le munizioni bene, ho finito le munizioni regà eh... benissimo no, ma che me l'hanno killato? l'hanno killato quello? l'hanno killato le Sloan mannaggia la miseria sì ma datemi delle armi ma io come faccio a buttare tutto giù che questi ci hanno 200.000 di vita ok, posso farmi un attimino medikit e shieldini per favore penso proprio di nore che non credo me lo lasceranno fare comunque i fight senza poter buildare fanno troppo ridere fanno veramente troppo troppo ridere sono troppo simpatici qualcuno ha preso il carro armato non so se qualche nemico o qualche scagnozzo perché non ho ancora capito se gli scagnozzi possono prendere effettivamente i carri armati però ne abbiamo trovato uno shieldone e ce lo facciamo subito che cosa sta facendo esattamente? sono lì nel carro armato no, da lontano non gli posso far nulla con questo va bene regà, ho perso un sacco di tempo non ho fatto neanche una kill devo ancora prendermi l'arma mitica della Sloan e tentare di andare là ecco questo qui regà che l'avano ucciso qui ma era palese regà che l'avessero ucciso ma dove sono andate le Sloan regà? eccola eh ma io punto a lei ovviamente punto a lei ovviamente regà sperando di tirarla giù perfetto mamma mia regà quanto so cattivi quanto so cattivi regà ok, perfetto allora, prendiamoci questo prendiamoci l'oro che regà essendo riniziata la stagione non fa mai male e quello col carro armato regà ma, uh eccolo regà regà con quello mitico adesso che non si può buildare amici miei panico ma questo c'ha la mitraglietta epica ma? ma cago la mitraglietta epica questo stava allora, adesso abbiamo il vampa mitico detto questo andiamoci a fare un pochettino di munizioni prima di tutto e poi prendiamo questo e andiamo dritti alla grotta in realtà mo questo qua vabbè magari si va a fare gli affari suoi dai andiamo alla grotta allora usiamo sto bel cannone che così ci buttiamo direttamente oh ok, va bene certo non è che ho fatto grossi passi in avanti però almeno possiamo prenderci sta macchina qua che c'ha tra l'altro la corazza davanti e vediamo se c'è ancora il boss del dirigibile ragazzi ho fatto un video dove vi parlavo appunto di tutti i boss dove trovarli come fare il problema ragazzi è che secondo me Gunnar non lo troviamo vediamo un attimino ragazzi vediamo un attimino poi c'è ancora un sacco di gente tra l'altro eh c'è ancora molta 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 gente proviamo ad entrare ragazzi infiltriamoci allora non sento nessuno e soprattutto vedo tutto aperto o la maggior parte delle cose le vedo aperte certo io non so poi oh 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 non puoi buildare amico mio non puoi buildare ricordatelo mi faccio lo shieldone mi prendo le cura bomba c'è qualcuno che passeggia qui sotto vediamo se ce l'aveva lui l'arma mitica vediamo se ce l'aveva lui l'arma mitica no purtroppo no ragazzi purtroppo no vediamo se c'è il boss vediamo se troviamo il boss qua no dobbiamo andare sotto allora proviamo sotto ah no qua siamo già al massimo sotto da dove arrivano sti passi? da sopra? eccolo eccolo regà ce n'è uno lì però non è il boss e poi mi sa che c'è qualcun altro ancora ma quanta gente c'è sta qui regà 15 ovviamente l'aveva fatto da troppo lontano fatto fuori ce l'aveva lui let's go eh ma adesso che me levo non ci ho pensato a sta cosa eh regà mi devo levare la mitraglietta mi devo levare la mitraglietta oh 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 ok pesciolotto ok pesciolotto adios perfetto no regà mi sa che mi tolgo gli scillini però la mitraglietta mi sa che me la devo tenere regà la mitraglietta me la devo tenere tanto abbiamo il sovrascudo che banalmente ci può coprire abbastanza mi tolgo gli scillini regà ma non posso fare a meno della mitraglietta viola certo ora mi vado a prendere quella mitica eh però nel dubbio se ci riusciamo perché non è detto da di qua si potrà entrare ma come faccio ad entrare lì eh regà tutte ste zone vanno un attimino riscoperte io qua vedo che sto andando giù 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 il problema regà è che qualcuno lo potrebbe già aver fatto fuori eh il problema è quello oh ma qua mi butto sull'acqua oh mio dio oh mio dio regà che ansia però che ansia perché poi uno non può scendere neanche buildando eh regà Kunar, Gunnar, Guido mi sa che l'hanno fatto fuori eh dubito che sia ancora vivo però ci proviamo l'altro il problema è se l'hanno portato via l'arma cioè si hanno portato via la mitraglietta mitica no eccolo regà eccolo eccolo regà regà eccolo qua let's go ce la facciamo a prenderle tutte cioè devo uccidere lui prima eh aspettate però che non posso buildare aspettate però che non posso buildare ma come ce l'avevo carica la mitraglietta pensavo di averla scaricata raga ti giuro ma che cosa mi ha laserato così tanto che cosa mi ha laserato così tanto raga ok questo a terra ok mamma mia raga più difficili con questo eh più difficili fa fuori questi qua raga oh no la safe oh no la safe meno male che si ferma qua via 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 mamma mia regà che ansia e mo l'ho finite le cure eh mo però l'ho finite dovrei andarmi a recuperare qualcosina mi devo andare ad aprire il capo invece palesemente mi devo andare ad aprire il capo mo dove l'ho lasciato il coso eccola qua ma non avevo preso la mitraglietta ma sto fuori di testa sto fuori di testa ragazzi vai andiamo ad aprire il capo ma strano che regà c'era un sacco di gente dalla slon c'era un sacco di gente qui in giro per il dirigibile ma nessuno stava qua dentro ma mi pare così strano regà secondo me qualcuno sta aspettando al capo dai se no non si spiega qualcuno al capo sta aspettando dai per forza stiamo attenti tra l'altro abbiamo anche la corona regà eh abbiamo la corona a difendere e la safe sta arrivando regà dov'è la pro eh vabbè mannaggia la misera ragazzi sbrigati 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 non scherziamo sbrigati regà non l'avevo minimamente vista la safe poi ovviamente noi con la solita sfiga sta dall'altra parte allora qua ci apriamo subito questi tra l'altro non posso neanche buildare per farceli di corsa questi qua ok facciamoci anche qui le cassaforti ragazzi purtroppo rimarranno chiuse perché sennò qua rischiamo troppo la pellaccia eh ragazzi che dire no regà me lo tengo e mi devo prendere questi qua per cercare di arrivare in tempo in safe regà dobbiamo girare senza cure dobbiamo girare per forza senza cure mi porto questi per cercare di sbrigarmi cioè non credo di avere troppe altre alternative regà ora vediamo se trovo qualche cura buona ma eh gli shieldoni potrei portare gli shieldoni vabbè regà eh no c'hanno tre però tre shieldoni che fai non te riprendi tre shieldoni si tre shieldoni te riprendi per forza eh per forza regà eh vabbè ragazzi purtroppo ci toccava spero di arrivare in safe però perché adesso c'è il dubbio ora c'è il dubbio oh no oh no sto anche più lontano o sbaglio no mi sa di no ok eh queste regà mi porto queste per forza mi porto queste almeno posso anche curarmi poi la vita e via regà forse era meglio se non l'aprivo il deltaplano mi sa che era meglio se non l'aprivo il deltaplano sapete oh regà in un'intera partita cioè in una sola partita senza l'utilizzo delle tende senza l'utilizzo delle tende siamo già andati a prenderci le le tre armi mitiche dovrebbe esserci soltanto queste ragazzi perché fondazione non ha più l'arma mitica purtroppo scattiamo usiamo lo scatto ragazzi ricordiamoci regà di andare con lo scatto che ci porta sicuramente un bel vantaggio allora perché non ho preso il pump viola perché col fatto che non si builda ragazzi io sto andando molto tranquillamente con un pump che spamma cioè ve lo dico molto onestamente ragazzi pump che spam pump che spamma e via per forza la trovo un'ottima soluzione regà e poi regà ero tutto preoccupato per il curarmi e tutto poi qua c'è stava tutta oh no regà però mo qua ho fatto una cavolata non posso buildare non posso buildare aggrappati non posso buildare corri 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 regà dico vabbè scendo là sotto tanto poi risalgo di là invece col cavolo regà ma che so tutti sti carri armati che mi segna ma poi non li vedo non li vedo regà cioè mi segna i carri armati ma poi non non li vedo vabbè oh mio dio regà c'è uno là mamma mia mamma mia mamma mia regà no regà me l'hanno rubato me l'ha non posso buildare dove sta regà me l'hanno rubato non ci credo ah ce n'è un'altra ancora no o è lui ma era lui o è un'altra ancora vabbè ragazzi con queste due armi mitiche da lontano cioè non c'è storia mo me l'hanno pure rubato uno però rosico rosico tantissimo ragazzi però eh qua si rosica forte eh no però se è solo uno no ah no aspettate quanti sono questi ne ho uno vabbè me tengo due shieldoni ma regà mi hanno fregato le la kill mi hanno fregato sto rosicando non mi piace quando mi rubano le kill quando le rubo però godo regà mi segna ancora il sto carro armato no ma questo ma che fai gli affari tuoi amico mio dai su dico sto carro armato che continua a segnarmi ma è mezzo buggato ah regà ah no no non è mezzo buggato 32 no 32 al carro armato aspettate un po' che c'è salito sopra c'è salito sul carro armato quello ma esplode però forse secondo me c'è salito per proteggersi da me sapete no 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 come non è esploso oh mio dio oh mio dio e mo e mo che gli racconto io a questo che gli racconto che sono simpatico oh mio dio ragazzi oh mio dio no regà ma ha distrutto ma ha distrutto però noi lo stavamo per distruggere a nostra volta non dovevo girarmi regà quando c'avevo ancora abbastanza vita dovevo continuare a star lì e sparargli peccato regà però è stata una partita intensissima è stata veramente una partita intensissima mi dispiace giusto per le corone mi dispiace giusto per la corona anzi che l'abbiamo perso un po' così ma solo perché è salito sul carro armato regà ma che pizza comunque il fatto di non poter buildare è troppo un casino contro i carri armati ragazzi è un po' una presa a male sta cosa nel dubbio regà io vi ricordo ovviamente come al solito il codice creatore gg y non ti tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di fortnite fondamentale per supportarmi ricordatevelo mi raccomando ragazzuoli iscrivetevi al canale se ancora non si è fatto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale appunto per me è tutto ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale oppure live su twitch e trovate il link in descrizione ciao ragazzi